Con l'avanzare della tecnologia avanzano non solo le nuove possibilità, come in Death Stranding avanzano anche le disconnessioni fra le persone e la loro terra. Tutto per inseguire un sogno lontano. Ne vale davvero la pena. Gli abitanti di Carrega Lingure si sono chiesti proprio questo e per fortuna stanno trovando il modo per far ricrescere le loro radici dimenticate. Dopo la seconda guerra mondiale l'Italia si viene travolta dal boom economico. Famiglie intere abbandonarono le campagne alla ricerca di fortuna e possibilità in città, lasciando così disabitati interi paesi. Proprio come le frazioni di Carrega Lingure, le cui casi di pietra vuote sono testimonianza di questa migrazione. Una migrazione verso il futuro florido regalato dal boom economico, ma anche un allontanamento dalle proprie radici. Come le CIA che vagano sulla terra di Death Stranding, anche in questo paese sembrano vagare le memorie di un passato ormai sbiadito dal tempo. Memorie che però i giovani del luogo sembrano riuscire a riportare alla luce. L'impegno di tutti è necessario per riconnettere il paese, per placare gli spiriti senza pagi degli avi e ridare speranza al futuro. Ogni sforzo sta ridando dignità e importanza a queste terre. Dal rendere l'area un parco naturale, alla rimessa in funzione del mulino di Mahjongkanda, il processo di riconnessione è già ormai avviato. Chissà se le radici, il tempo spensate, riusciranno a crescere ancora una volta rigogliose. Speriamo possano farlo, accollate dalla terra fertile e dalle attenzioni dei nuovi abitanti. Come vivi nelle loro stilmateri.